Tutto pronto ad Ascoli per la Quintana di Agosto in programma domenica prossima dalle 15.30. La giostra, come accaduto nell'edizione di luglio, verrà trasmessa in diretta integralmente su Vera TV Canale 79. Nel frattempo si completa il quadro delle sei dame che impreziosiranno il corteo storico che muoverà i primi passi da Piazza Ventidio Basso già alle 15 e vedrà anche la presenza di una quadriglia del IV Regimento dei Carabinieri a Cavallo di Roma. Anche il sestiere di Porta Solestà ha presentato la signora di Agosto che ingentilirà il corteo giallo-blu. Si tratta della 27enne Elena Grazioli che indosserà per l'occasione un vestito blu e rosa salmone. Laureata in chimica, Elena sta portando avanti un master in cosmetologia, ama viaggiare e pratica sport quotidianamente. Da sempre legata ai colori di Porta Solestà, Elena si è detta emozionata per questo incarico che le è stato affidato. Sono nata e cresciuta ad Ascoli, ho studiato chimica a Camerino e attualmente sto studiando per un master in cosmetologia. In realtà mi piacerebbe moltissimo, il mio sogno sarebbe diventare un'insegnante, vorrei trasmettere questa mia grande passione per la chimica. Sono legata a questo sessiere grazie alla mia famiglia, a mio padre, alla famiglia di mio padre e soprattutto ai miei nonni. Sono cresciuta qui insieme a loro, abbiamo sempre partecipato alla vita del sessiere e quest'anno vorrei ricordare in particolar modo mio nonno che purtroppo se ne è andato proprio in quest'anno, durante quest'anno e quindi vorrei sfilare anche per lui che mi ha trasmesso questa grande passione, questo legame. Sono rimasta felicemente sorpresa da questa chiamata, soprattutto perché arriviamo da un periodo molto difficile, quindi questa quintana, soprattutto questa di agosto è molto importante. Ho avuto una grande emozione e sono attualmente molto emozionata. e non vedo l'ora e arrivi domenica. So di essere molto giovane, però questo non mi spaventa assolutamente, anzi spero di divertirmi e godermela in pieno e portare fortuna a tutto il sessiere.